Si è conclusa positivamente, puliamo il mondo, che a Caltanissetta è coinvolto enti, dunque comune, libero consorzio ad esempio, ANAS, Dasti, ma anche tanti giovani come gli scout e gli studenti. Il 30 settembre, venerdì, i bambini hanno riempito Piazza Garibaldi, partecipando ai laboratori realizzati all'interno di una delle aree allestite in occasione della manifestazione carovana dell'economia circolare, iniziativa di lega ambiente, che ha coinvolto diverse città siciliane e dunque anche Caltanissetta. Nel pomeriggio, invece, i ragazzi e ragazze delle scuole superiori hanno ripulito alcune zone cittadine aderendo alla campagna nazionale Puliamo il mondo. Hanno tolto rifiuti in alcune aree, come Viale Regina Margherita o Piazza Papa Giovanni XXIII. Domenica, invece, 2 ottobre, l'attenzione si è spostata verso la strada provinciale 2 e alcune aree di sosta della strada statale 640. Si tratta di pulizie straordinarie per certi versi simboliche che mirano comunque ad un obiettivo strutturale, riuscire a mettere attorno ad un tavolo prefettizi e diversi attori competenti si legge in un lungo posto di lega ambiente Caltanissetta. Un auspicio che pare possa concretizzarsi a breve, così come aveva raccontato anche ai nostri microfoni qualche giorno fa il presidente dell'associazione ambientalista nissena e vocigna. Si pensa infatti ad una sinergia tra gli enti per far sì che le strade rimangano prive di rifiuti e, guardando al futuro, anche ad un protocollo di intesa.